Così come anticipato ieri i carabinieri, coadiuvati da personale della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera, della Polizia Municipale e dell'Azienda Sanitaria Provinciale, hanno effettuato nel territorio di riposto un'attività ispettiva in materia di lavoro e commercio su suolo pubblico. A seguito dei controlli è stato denunciato un commerciante tunisino di 62 anni per la violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I militari hanno accertato che l'uomo, titolare di un bar ubicato in via del commercio, impiegava nell'esercizio pubblico un lavoratore in nero. Sanzioni per più di 7.000 euro sono stati invece elevati a diversi venditori ambulanti sorpresi a commerciare prodotti alimentari sul suolo pubblico senza alcuna autorizzazione. In totale sono stati sequestrati 800 kg di prodotti ortofrutticoli, nonché 40 kg di prodotti ittici posti in vendita in violazione delle basilari norme igienico-sanitarie. Grazie.